ascolta quando aprono loro vediamo Luigi come fa con Monteda Lele gli darà una manettata dalla Madonna salta il primo tronco, arriva a terra lì e poi gli si imbizzarrisce e si ferma e allora che cavolo bravo un'altra trazione via bravo bravo però finitela la zona capito ma hai sentito quanto ha gasato sotto terza e appena finisci la gincana apri ma c'è una strada che da qua dentro il bosco io arrivo al flue per attraversare la strada e andare su dall'altra parte senza diventare troppo matto aspetta attraversare la strada e e risalire dall'altra parte andare verso carimate bravo così sei già la strada sei già la strada devi già andare a casa staccato sono pranzo è spenta da gas e lo porta su apri apri lì sei già la strada dai forza ma va la forza le tre banca su tutto il bosco allora ma buongiorno ma no c'è il sole in dio e scatta non ti vedevo neanche vedevo un beretto ma non capivo allora per fortuna siamo qua bravo bravo ebbè è chiaro se non canna la discesa bravo Grazie a tutti.